Ciao a tutti e benvenuti in questo video dove voglio informarvi sul nuovo aggiornamento 8.05. Alcuni di voi mi hanno chiesto cosa conteneva, che cambiamento apporta al nostro Medianav. Grandi miglioramenti non li porta, diciamo che risolve alcuni bug del sistema e io avevo un piccolo suono che mi usciva durante le telefonate e mentre ascoltavo della musica dalle pennette, una specie di beep che si è eliminato, quindi sono testimone che ha risolto almeno a me un piccolo bug. E un'altra miglioria è quell'audio. Molti infatti hanno anche notato un miglioramento dell'audio, sia del volume e un audio molto più pulito, più equilibrato. Inoltre mi sembra che quando spegnete il navigatore rimane memorizzato l'impostazione dei volumi sia del navigatore, della radio, del telefono impostati precedentemente, senza che si resetta di default. Se non vi ricordate come si aggiorna, alla fine di questo video trovate il link per il video su come si aggiorna il Medianav. Se vi è piaciuto il video cliccate sul like e mi raccomando iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video, ciao!